La Fiorentina è spulso per doppio giallo, Vignali, credo per protesto, è stato un lungo conciliabolo. Tanta attenzione, Dabro è entrato contro Brozzo, Drabo! Sono tre, Fiorentina che chiude definitivamente, qualora ce ne fosse stato bisogno. La partita, rete di Dabro, entrato pochi secondi fa sul terreno di gioco, 3-0 e gioia viola. C'è la festa di tutti i giocatori della Fiorentina che sono andati a festeggiare, vedete che mucchio che stanno facendo là dietro, la panchina dello Spezia naturalmente rassegnata, dobbiamo dire che insomma 3-0 forse è davvero troppo, una punizione troppo severa. Sono d'accordo Lucio, forse tre gol sono tanti perché poi alla fine, fino a cinque minuti alla fine dello Spezia è stato in gara, dello Spezia ha fatto la sua onesta partita. Qui c'è stata proprio un'imprecisione tecnica che ha permesso a Dabro di imbolarsi verso la porta in maniera solitaria. Esce Paccagnini nello Spezia, sta per entrare Costa.